Benvenuti su Meteo Giuliacci. Il tempo è previsto per sabato 12 maggio, tempo ancora moderatamente inestabile sull'Italia, soprattutto sui rilievi, quindi sulla regione alpine e appenniniche, dove appunto nel pomeriggio potranno nascere qua e là rovesci e temporali di moderata intensità. Nuvole un po' quasi ovunque, sempre nelle ore pomeridiane. Per quanto riguarda le temperature, queste resteranno al di sopra della media, soprattutto sul nord Italia, ma soprattutto sulle regioni di nord-est, in particolare l'Emilia e il Basso Veneto, dove le temperature massime potrebbero raggiungere nel pomeriggio valori di 25-27 gradi. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.